Scemo! Mi sto portando! Dovresti farla da fuori però... No, no! Non ti si vede però non so perché non viene... Qui! Vedete lì? Quelle righe? Lì sopra mi ha portato! Lì sopra! Resta! Quel matto lì! Non va bene così non ci siamo! Non ci siamo! Anche adesso mi lasci qua? Ovvio! Eccoci! L'impresa per uscire fuori da qua dentro! No! Usciremo più! Aiuto! Se l'abbiamo fatta! Il matto è uscito! Adesso un'altra avventura con bande desolate della Carnia in cui cosa facciamo oggi pomeriggio? Ma vieni che ti porto io! Oh se è l'ultimo giro con la mia città! Oh! Oh! Madonna santo! Mi raccomando non fate mai colazione cinque minuti prima di venire da queste parti! Perché... Oddio! Questa è la strada! Che bello! È una pista forestale! Ok sì certo! Oh madonna le frasche perché abbiamo i finestrini aperti! Oh madonna! D'anno pure il burrone che c'è dall'altra parte che non si vede! Non vedo solo io! Oddio si è aperto tutto! Oddio! Oddio! Guardate che strada! Cioè ma non si fa! oh madonna questo qua è matto lo vedete non venite mai in macchina con questo elemento eccoci adesso dobbiamo scendere ragazzi ce la potremmo fare ma cosa dite che siamo saliti anche scendiamo no ma vai piano su serio sono in prima ridotta di piano di così io non mi fido di corsa no perché è l'ultimo giro della g ecco vedete io sono sul ciglio di questo bellissimo burroncino è giusto un po' di ghiaia giusto un po' eh eh sì le ultime parole famose e io poi dopo sono laggiù vediamo se riusciamo ad uscire manca poco ecco ciao 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 ciao